ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi un'altra torcia tattica della true night noto marchio che produce torce tattiche di buona qualità questa volta che non costa nemmeno tantissimo perché questa torcia raggiunge 3.290 lumen circa e può raggiungere 348 metri di distanza con un raggio grande angolare che si concentra di più al centro con dei bordi molto netti quindi fatta bene studiata bene e che costa 69 euro tra l'altro per ora su amazon c'è pure uno sconto del 10 per cento quindi una torcia tattica che ci permette di avere una gran bella luminosità questa non è nemmeno la modalità turbo perché la modalità turbo e questa è davvero molto luminosa comoda e gestibile tra l'altro senza fronzoli piccola compatta che entra in una mano con una buona autonomia insomma valida davvero quindi me la voglio fare vedere da vicino poi andiamo all'esterno facciamo un paio di riprese la valutiamo assieme vedendo come si comporta nel suo ambiente naturale quindi il buio iniziamo guardiamo quindi il prodotto la confezione è quello che troviamo al suo interno una comoda fondina morbida che ci permette di trasportarla facilmente nella parte posteriore abbiamo ovviamente sia la possibilità di mettere nella cintura che di appenderla e la chiusura è a velcro questo tipo di fondina è molto comoda perché all elastico quindi volendo si può adattare anche ad altri tipi di torce essendo così morbida non ostacola nei movimenti per esempio quando ci si siede in macchina alla guida eccetera troviamo anche questo laccetto più degli o ring e dei tappi da poter sostituire l'accetto va messo in questo anellino alla parte posteriore e io ring eventualmente all'interno ma ora vi farò vedere quando lo sviteremo e questo è il cavo di ricarica usb di tipo c come vedete è ancora nuovo perché ho utilizzato un altro cavo usb di tipo c perché si può ricaricare anche con un caricabatterie per cellulari allora vi ho detto che avrei svitato la parte posteriore si svita facendo presa su questa parte zigrinata come vedete qua abbiamo un ring all'interno c'è una grossa batteria 26.650 da 3,7 volt da ben 5.000 mAh tra l'altro questa torcia si può svitare anche da questa parte e questo ci permette nel caso in cui ci fossero eccessori compatibili anche di ampliarlo quindi casomai utilizzare più batterie eccetera ma continuiamo a guardarla quindi l'avvitiamo una volta abitata grazie io ring sarà anche impermeabile si può utilizzare anche da accesa sott'acqua nella parte superiore subito dopo il logo e la scritta troviamo il tasto di accensione al centro c'è anche un led che indica lo stato di carica quando la batteria scarica sarà di colore rosso invece quando sarà carica diventerà di colore azzurro in questo caso come vedete è carica al cento per cento questa parte oltre essere decorativa serve anche a dissipare il calore la corona è perfettamente liscia ed ha una buona sporgenza che evita in caso di caduta di urti che si possa danneggiare graffiare il vetro nella parte frontale questa parte invece ha una zigrinatura che dà davvero un gran bel grip praticamente è impossibile farla scivolare via dalle mani perché offre una buonissima presa ma parliamo delle caratteristiche tecniche guardandole anche dal mano alle istruzioni che troviamo in quattro lingue differenti quindi inglese cinese giapponese e tedesco come le barzellette da questa parte troviamo quindi le varie tipologie di utilizzo quindi lume nelle distanze raggiunte la durata in base alle modalità abbiamo la modalità strobo che emette 966 lumen per quattro ore consecutive e si accende premendo questo tastino due volte dopo aver attivato la modalità turbo infatti la modalità turbo si attiva con due pressioni consecutive adesso ci sarà la modalità strobo se vi dà fastidio non guardate premendo altre due volte avremo quindi questo lampeggio veloce che serve ad infastidire manintenzionati che siano essere umani comunque umani mali perché questo lampeggio così forte scoraggia gli aggressori poi abbiamo la modalità firefly che mette 04 lumen pochissimi dura 69 giorni e serve per tutte quelle circostanze nelle quali dobbiamo guardare da vicino comunque in ambienti molto piccolo tipo vani portoggetti eccetera si accende tenendo premuto a lungo il tastino di accensione in questo modo avremo questa luminosità ridotta che adesso non si percepisce ma che al buio è molto utile perché evita di abbagliarci evita di farci vedere da occhi indiscreti ma ci permette di leggere ma anche di fare segnali luminosi perché questa luce anche grande distanza si nota possiamo pure posizionarla in un punto allontanarci e utilizzarla come punto di riferimento per ritornare dal punto in cui siamo partiti guardiamo le altre modalità quindi la modalità lo che mette 30 lumen media che mette 264 lumen è alta da 1513 lumen con una durata di 89 ore 10 ore e 116 ore rispettivamente poi abbiamo anche la modalità turbo che vi ho fatto vedere poco fa che a 3.294 lumen raggiunge 348 metri ma dura soltanto 200 secondi quindi poco più di tre minuti poi si abbassa a 1500 lumene quindi nella modalità più alta perché abbiamo 13 lumene di differenza per 112 secondi quindi quasi due ore come vi dicevo poco fa è anche impermeabile quindi una protezione ipx8 che ci consente di utilizzarla fino a due metri di profondità anche da accesa e può resistere a cadute da un metro e mezzo di altezza guardiamo quindi queste modalità accendiamo a una modalità memoria quindi questa è la modalità alta ma se io tengo premuto l'abbasso la modalità low e posso rispegnerla riaccenderla avendo l'ultima modalità utilizzata mantenendo premuto però il tastino la modalità cambierà quindi bassa media e alta e turbo tra le varie caratteristiche di questa torcia abbiamo la base completamente piatta che ci permette di utilizzarla in questo modo e puntare la luminosità sul soffitto per diffondere la luce in tutto l'ambiente perché la luce va a finire sul soffitto e quindi poi si diffonde in modo opogeneo adesso però facciamo una prova sia qua all'interno nella modalità più bassa vi faccio vedere la modalità la modalità file play e poi andiamo in esterno a fare un paio di riprese adesso proviamo la modalità file play quindi la più bassa come vedete accendendola riesco a leggere questo manuale di istruzioni anche se siamo un po distanti ecco con una zoomata riusciamo a leggere praticamente tutto senza abbagliarci a differenza della modalità più bassa che al buio ragazzi riflette perché ha una bella luminosità che poco fa con le luci accese non si notava ma per leggere da vicino come vedete abbiamo questo riflesso quindi spegniamo riaccendiamo con la modalità far fly e riusciamo a utilizzarla vedere quello che ci serve da vicino senza esagerare perché non è una luminosità che serve a fare luce ma a guardare da vicino come vedete però riesce anche ad essere molto visibile al buio quindi come dicevo poco fa si può utilizzare come punto di riferimento oppure per fare dei segnali luminosi ora però andiamo in esterno e guardiamo come si comporta illuminando l'edificio abbandonato e qualche altra cosa ma ogni volta vi parlo della modalità candela non vi faccio vedere mai a cosa mi riferisco quindi l'accenderò inizialmente con la modalità più bassa in questo modo abbiamo poca luce nella modalità più bassa quindi non possiamo avere chissà quanta luminosità andiamo alla modalità successiva già in questo modo riusciamo ad illuminare l'ambiente in modo tale da poter vivere per esempio in una tenda se siamo in un accampamento eccetera riusciamo a vedere un pochettino tutto ma se vogliamo vedere molto bene andiamo alla modalità successiva quindi questa e con questa riusciamo a vedere benissimo guardate alle mie spalle il mio viso ovviamente illuminato adesso dall'alto quindi a queste ombre però riusciamo a vedere tutto benissimo se metto la modalità turbo ovviamente si vede ancora meglio ma riduciamo la luminosi la durata della batteria inutilmente basterebbe utilizzare la normale modalità alta che dura parecchio o anche la modalità intermedia quindi questa è la modalità candela che si utilizza però poggiandola su una superficie adesso mi sto accettando quindi andiamo all'esterno e vediamo come va e allora c'è vento molto vento quindi spero che non dia fastidio al microfono comunque allumine illuminiamo inizialmente con la modalità più bassa riusciamo a vedere da vicino niente di che però comunque è luminosa rispetto a tante altre e guardiamo adesso le varie modalità fino a raggiungere la modalità turbo quindi guardiamo queste sono le tre modalità facciamo la zoomata questa è la modalità alta e riusciamo a vedere tutto bene si vede anche in questo caso tutte le varie fughe dei mattoni c'è anche vento oltre che umidità quindi si vede questo fascio fastidioso che però rende più affascinante la torcia comunque concentriamoci sul nostro obiettivo il nostro edificio abbandonato andiamo nella modalità turbo quindi doppio clic e guardate si vede tutto anche l'edificio in fondo quindi l'hotel abbandonato diciamo una zona di edifici abbandonati e se riesce a vedere tutto benissimo essendo grandangolare guardate abbiamo questo cerchio nettissimo ed è utile nel caso in cui noi non vogliamo illuminare in alcune zone riusciamo a gestire il fascio luminoso senza invadere un'area che non deve essere illuminata per diverse ragioni diventa giorno perché davvero molto luminosa ok adesso proviamo a simulare una camminata allora illuminiamo di fronte a noi con la modalità alta è davvero esagerato molto molto luminosa guardate il palazzo in fondo quindi quella villetta bianca se spengo e se accendo con la modalità alta ma non turbo guardate la modalità turbo davvero ragazzi arriva lontanissimo non so che distanza sia ma saranno 200 metri 150 metri e già riesce a illuminarla molto bene facciamo un giro panoramico e adesso abbassiamo la luminosità andiamo alla modalità bassa che secondo me per poter fare una passeggiata va più che bene ma se abbiamo bisogno di illuminare meglio possiamo aumentare e decidere quale luminosità avere guardate quanto sia largo davvero una luminosità molto larga che però è molto netta quindi dovete decidere se questo tipo di luminosità va bene per voi o se volete un raggio più grandangolare e allora ragazzi siamo tornati dalle prove in esterno c'era davvero tantissimo vento e freddo infatti non so se l'audio si è registrato vi ripeto alcuni concetti avete visto che ha questo cerchio nettissimo che è comodissimo in alcune circostanze perché se non vogliamo invadere alcune zone quindi illuminare solo in un punto ben preciso senza illuminare altre zone perché può dare fastidio per svariati motivi abbiamo questa comodità c'è chi preferisce invece un bordo un pochettino più fievole quindi che non sia così netto ma io invece preferisco che sia in questo modo devo decidere io dove devo illuminare e dove no e il suo grandangolo è molto ampio quindi ci permette di illuminare da lontano a vedere anche quello che abbiamo vicino con una parte centrale più luminosa quindi se dobbiamo osservare con attenzione alcuni punti riusciamo a vederli molto bene una torcia ben gestibile compatta va tutta in una mano quindi si può anche nascondere comodamente mettere in una tasca si può trasportare con facilità e anche la fondina questa comodità di essere così morbida quindi dopo che l'abbiamo rimossa dalla fondina possiamo anche sederci o piegare la stessa e metterla in tasca in un marsupietto senza avere alcun tipo di fastidio perché non ingombra ma svolge le sue funzioni quindi una torcia che secondo me è stata studiata bene per chi deve fare ricerche o semplicemente per chi vuole portarla con sé per avere una torcia che non costa tantissimo perché 69 euro con queste prestazioni con questa batteria con queste modalità è difficile da trovare soprattutto di marca come la true light che un marchio noto quindi se vi piace andate a dare un'occhiata spero di ottenere anche un codice di sconto anche se già c'è un 10 per cento da applicare direttamente su amazon ci provo io io lo chiedo se me lo danno bene detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccando sul pollicione all'inzù che trovate qua sotto cliccate anche sulla campanella per attivare notifiche ci vediamo tutte le prossime caricamenti ciao da riccardo ea presto